Ci hanno lavorato i ragazzi della terza all'indirizzo turistico del Cassata Gattapone, ieri è stata presentata ufficialmente. L'applicazione dal titolo Appassionati è stata ideata e coordinata dagli insegnanti Valentina Bornini e Pietro Livi e patrocinata dal segretariato regionale del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo per l'Umbria. Un prodotto che ha trovato anche il plauso di sindaco e d'assessore al turismo perché hanno detto è un prodotto efficace per promuovere le nostre bellezze e anche noi come amministrazione non escludiamo di usarla nelle nostre strategie di marketing territoriale. L'app è un prodotto multimediale unico a Gubbio e non solo, illustra cinque percorsi tematici di grande interesse storico-artistico, architettonico, archeologico e paesaggistico, in parte anche inediti. Il riferimento fisico e storico, punto di partenza e di ritorno di ciascun percorso, è Palazzo Le Consoli, visibile da più parti della città. Per prima cosa abbiamo fatto uscire i nostri ragazzi proprio dalle aule, abbiamo svolto tantissime visite guidate, in particolare nella città di Gubbio e non solo, proprio al fine di stimolarli. I ragazzi non devono soltanto saper, ma saper fare e saper essere, proprio per poter vivere nell'ambiente che li circonda e saper riconoscere il bello, la nobiltà.